C'è da dire che abbiamo disfrutato una buona partita contro una squadra che non per niente è in quella posizione in classifica. Sinceramente dai miei giocatori oggi non posso rimproverare niente, è andato al massimo. Siamo sempre lì, oggi ci manca sempre qualcosa, è chiaro che l'assenza di un giocatore interno pesa, avete visto come è andata, abbiamo dovuto giocare con Datome numero 4 per 30 minuti, ancora grazie a chi ha dato questo apporto qui. E niente, credo che l'analisi della partita è questa, abbiamo giocato con una squadra che in questo momento è più forte di noi, ci abbiamo messo il massimo e siamo arrivati lì come in tante altre partite e non l'abbiamo portato a casa. Questa è un po' l'analisi, poi se volete parliamo un po' più specificatamente e mi fa piacere magari se avete delle domande, però questa è l'analisi. Grazie. 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 Grazie.